Buongiorno ragazzi, benvenuti nella nuova puntata di Power Pizza! E con nuova puntata intende la prima puntata. Beh sì, la prima tra virgolette. Benvenuti. Ciao! Che cosa sta succedendo? Che cos'è Power Pizza? Allora, forse è più comodo dirvi che cosa non è. Certamente non è un podcast per farvi diventare dei bravi medici, perché per quello dovete studiare un sacco di anni. È vero. Questo lo dici tu che non sei un medico, ma io che ho studiato mezz'oretta ieri e ora sono un medico. Nel frattempo Sio sta operando a cuore aperto. Ehi, come fai a saperlo? Se però quello che cercate sono tre cialtroni che parlano di vari media che consumano, allora questo è il posto per voi. È vero. E occasionalmente di pizza. E occasionalmente di pizza. Sì, esatto. Potremmo mettere sempre un angolo tipo di recensioni di pizza all'interno della nostra puntata. No, no. Va bene. È bellissimo vedere che siamo tutti d'accordo in questa cosa. Ora inizierò a parlare della mia pizza preferita, la margherita. No, smettila! Che cosa cercheremo di fare? Stiamo già fallendo alla grandissima, ma che cosa cercheremo di fare all'interno di Power Pizza? Fondamentalmente, visto che siamo tre persone con stili di vita un po' diversi, che consumano media con tempi e in modalità diverse, fondamentalmente sarà una mezz'ora, una mezz'ora abbondante, in cui parleremo delle varie cose che abbiamo visto, film, videogiochi, libri. Libri di videogiochi. Cosa sono i libri? Sono quella cosa che mi fa paura, che non posso vedere. Comunque mia mamma mi ha detto di non accettare mai un libro da uno sconosciuto. Scusate, io alzo la mano qui da dietro questo microfono e dico, beh, ma non possiamo presentarci. Giusto! Aspetta che aggiungo il video, così la connessione di Nick, che è già disastrosa, diventa peggiore. No, 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 così mi esplode il computer. Loro, chi sei? Aspetta, lo sai benissimo, perché me lo stai chiedendo. Non è vero, non è vero. Io so soltanto che ci siamo conosciuti su Tinder l'anno scorso. No, però è vero, un attimo, è la prima puntata del podcast, potrebbero esserci persone che non conoscono chi siamo, possiamo dire velocemente che io sono Sio, sono uno youtuber di videogiochi, mi trovate su favvj.com. Nick, invece, cosa fai? Io sono un cuoco e cucino con le macchine fotografiche. È una cosa abbastanza nuova, ma sta prendendo piede soprattutto in Italia e sono un amante dei cappelli lunghi. Io sono un cuoco, ma soprattutto sono una persona che odia Sio e Nick e non capisco perché mi ritrovo ciclicamente ad interagire con loro. In qualità di questo sei una delle persone migliori che vuole parlare con noi. È vero. Perché sai perché siamo delle persone di... Possiamo dire le parolacce in questo podcast? Certo, è il nostro podcast. Io propongo di no, così lo possiamo far ascoltare. Cosa? Io pensavo che il sottotema del podcast fosse imprecare un sacco. Culo! Devo riscrivere completamente tutto quello che ho preparato. Era solo un'enorme lista di parolacce. La stessa parolacce scritta appunto 100, 200 volte sullo stesso foglio. Ok, io sarò onesto. La mia speranza per questo primo episodio è che voi abbiate visto o letto qualcosa perché io fondamentalmente sono riduce dall'E3 e l'unica cosa che ho in testa in questo momento sono tantissimi videogiochi. Parliamo di tantissimi videogiochi. Anch'io volevo parlare di videogiochi. Scusa, è la settimana dell'E3. Possiamo parlare di altre cose la settimana prossima. No, ma ci arriveremo. In realtà non penso che ci servirà mezz'ora per parlare. Non è stato un E3 così intenso onestamente. Smash Bros. Ultimate! Avevo preparato una piccola scaletta con i giochi più importanti e preferiti e di fianco a Smash Bros. Ultimate avevo solo scritto SIO perché sapevo che non avrei avuto bisogno di parlarne. Ovvio! Lui non aspettava altro. Ti hanno messo tutti i personaggi di tutti gli Smash! Stavo per piangere ieri durante il Direct. Ma questo esce su Switch? No, sul tuo orologio. Sì, su Switch. Wow! Sul mio orologio. Ok, improvvisamente sto parlando di Smash Bros. Ok, parlerò rapidissimamente di Smash perché io sono eccitatissimo e soprattutto sono impugnatissimo di Smash. E riesci a nasconderlo benissimo. È vero, è vero. Si sistema la cravatta. Piangendo fortissimo col mascara colato. What? No, guarda, solo per dire, sono riuscito a buttare tipo 200 ore in Smash per 3DS, che è la versione peggiore di Smash ever. Quindi stai dicendo che Smash può essere anche un gioco orrendo? No, è la peggiore versione di un gioco fantastico. Ok, quello che stai dicendo è che non sei un vero fan e che odi la Nintendo. Io ho sentito questo, anch'io ho chiaramente sentito che Sio odia la Nintendo e che gli fa schifo Smash Brothers. E diterò tutto opportunamente in modo che la Nintendo possa togliere il saluto a Sio. Ciao Sio! Questo episodio è stato presentato da Nintendo che non voleva sponsorizzarci l'anno scorso e non vorrà sponsorizzarci quest'anno. Posso essere del tutto onesto? C'è qualcosa che dovremmo sapere su Smash Brothers o oltre al fatto che ci sono tutti i personaggi in questo? Lo prendo per un no. Wow! C'è Ridley? Basta? Ok, no. Allora, quali sono stati? Cosa? 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 No, vabbè, molto semplicemente Sakurai ha detto Ok, rompete sempre tutti tantissimo le palle con Smash, metti questo personaggio, metti quel personaggio. Ok, metto tutti i personaggi che sono mai stati in Smash e in più Ridley che è un personaggio che tutti avrebbero sempre voluto il cattivone di Metroid. E fine, quindi è un gioco fanservice potentissimo e basta. E la cosa bella è che sono certo che ci saranno persone che saranno comunque in grado di lamentarsi e non vedo l'ora di vedere le motivazioni. Ci sono tipo 70 personaggi, è difficilissimo. 70 personaggi perché a quel punto non ne hanno messi 100. È vero, è vero. O 200. Io voglio solo dire un'ultima cosa e cioè che sono pazzi perché più personaggi mettono in quel gioco più è difficile Kirby da sviluppare perché Kirby deve copiare un'abilità di ogni personaggio e deve avere le animazioni diverse da ogni personaggio e quindi diventa esponenzialmente il doppio dei personaggi. Fine della rant. Ne riparliamo a dicembre quando esce. Lasciando da parte un istante Smash Bros, siamo tutti ovviamente penso d'accordo nel dire che la cosa, l'unica cosa veramente importante di questo E3 sia stato l'ennesimo trailer inutile di Death Stranding di Kojima. Io continuo a non capire che cosa sia quel gioco. Neanch'io. Non c'è bisogno di capire, devi semplicemente aprire il tuo cuore a Hideo Kojima. Tra l'altro pare, da alcune voci di corridoio, che il gioco possa essere in realtà uno spin-off di Metal Gear Solid senza chiamarlo Metal Gear Solid ovviamente perché la Konami non c'entra. E nello specifico che possa parlare dell'aldilàe di The Sorrow di Metal Gear Solid 3. Altre voci però invece indicano che si potrebbe trattare della storia di Don Lurio. La storia di chi? Don Lurio. The Sorrow. Non hai giocato a Metal Gear Solid Space? Eh, cosa? Il Metal Gear Solid nello spazio me lo sono perso. Sì. La cosa centrale è che il fatto che tu sia pelato era già stato predetto da Kojima 16 anni fa. Tutto ciò è verissimo. Quindi questo è il gioco più importante mai esistito. Ora mi ricordo che cos'è Death Stranding perché mi ricordo la faccia di quell'attore orribile che fa... Norman Reedus. Norman Reedus in realtà è bravo. La roba degli zombie. Qualcuno guarda Walking Dead? No. Esatto. Walking Dead è una cosa che mi ha sempre fatto cacarone. Allora, posso dire una cosa su Walking Dead velocissima? No. 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 Ok, scusa. Dico solo una cosa velocissima su The Walking Dead. The Walking Dead mi ricordo benissimo quando tantissimi anni fa abbiamo guardato il pilot e ho detto wow è la cosa più bella che abbia mai visto e poi ho guardato il primo episodio e ho detto wow è peggiorato centomila per cento dal pilot e non l'ho mai più guardato. Sì, il primo episodio aveva potenzialmente un sacco di promesse e dal primo al secondo episodio c'era un abisso di qualità. Sì. E fine. E poi hanno mantenuto quella qualità inesistente in tutte le serie, sempre, e gli zombie sono stupidi. Beh, gli zombie sono stupidi per definizione comunque Nick, scusa ma non so se hai letto la zombie. Sì, ho capito, però quelli di The Walking Dead sono particolarmente stupidi. Non puoi essere troppo stupido. Spero che si senta io che mi gratto la faccia. Scusami. No vabbè, niente, volevo dire un'altra cosa su Kingdom Hearts 3 e che finalmente ci hanno dato la data di uscita nel 2018 che è nel 2019. Anche se in realtà hanno detto che uscirà nel 2019 ma non hanno specificato nel 2019 di quale anno. È vero anche questo. Dannata Square Enix. Tra l'altro, sempre la Square Enix ha fatto uscire anche una sorta di teaser trailer per Babylon's Fall, si chiama, che è un nuovo IP. Cosa vuol dire IP? IP, proprietà intellettuale, puoi dirlo anche in italiano. Proprietà intellettuale, esatto, ma sarebbe P-I. La cosa bella è che il trailer di Babylon's Fall non rivela assolutamente nulla, cioè non si sa neanche che razza di gioco sarà, ma sono comunque pronto a scommettere che uscirà prima di Kingdom Hearts 3. È molto probabile. Però in realtà fa ridere perché io ho regalato un amico fissato con Kingdom Hearts, la copia di Kingdom Hearts su Amazon. Gli ho regalata tipo un mesi fa e mi è arrivata la mail. Congratulazioni, ora abbiamo una data per il compleanno del tuo amico e cioè il prossimo compleanno dell'anno prossimo. Sono bravi, però ti hanno comunicato tutto tempestivamente, sono stati molto bravi. Perché Amazon non è Square Enix. Inaspettatamente la cosa che mi ha interessato di più è stato il pannello della Ubisoft, perché hanno annunciato Skull & Bones, che è un gioco di pirati. Ci sono i pirati, cioè non ho idea di come sarà il gioco, ci sono i pirati, venduto. Ma aspetta, non è appena uscito un gioco di pirati, Sea of Thieves? L'hai provato? Ah, Sea of Thieves. Sì, ma non mi piace l'estetica. Non mi piacciono i pirati. Esatto. E se c'è una cosa che odio sono i pirati, col cavolo che mi compro un gioco di pirati. Dovrò aspettare che esca quell'altro gioco con i pirati. No, nella parte videogiochi voi due avete delle idee molto definite e io molto poco. Però rimane che adesso sto guardando tipo, diciamo, quello che hanno scritto su Skull & Bones e la prima cosa che mi viene in mente è che palle è un gioco sui pirati. Che dovrebbe essere la cosa bella di questo gioco. Ma che palle spararsi dalle navi. Aspetta, cosa? Questa è la conclusione in cui sei arrivato leggendo il titolo. Ah, non avevo idea di cosa fosse fino a cinque secondi fa. Poi ho letto il titolo. No, sto guardando, ci sono degli estratti del gameplay e ci sono i trailer. Sto guardando degli articoli sulle tre. Ok. Beh, a meno che tipo le navi pirati di solito non vadano in giro con le barre della vita sopra e non ci siano tipo i controlli per muovere i cannoni. E questa è la cosa bella. È totalmente realistico. Le navi hanno la barra della vita proprio come nella realtà. Ok, perfetto. Esatto. Proprio come nella realtà. È bello che abbiano anche tipo fatto uscire informazioni riguardo al nuovo Spider-Man che uscirà l'anno prossimo, si immagina. Sembra bellissimo. Anche se in realtà questa cosa. Sì, sta tenendo però in inganno un sacco di persone perché ovviamente il nome è Spider-Man. Tutti pensano subito al personaggio della Marvel quando invece pare che questo gioco sviluppiato da Insomniac sia solo le avventure di un ragno molto grosso. Un generico ragno. Wow. Abbastanza grosso da poter sembrare un uomo. Un ragno che ha sempre voluto essere una persona e che finalmente si trasferisce a New York per coronare il suo sogno. È un ragno con una cravattina. Sì. E tra l'altro pare che sarà disponibile anche la versione VR che permetterà di mangiare tantissime mosche. Tantissime. A proposito, qualcuno di voi ha mai provato VR recentemente o mai? No. Ho giocato a Superhot in VR ed è la cosa più bella del mondo. La cosa più bella del mondo. Grazie della recensione. Cos'è Superhot? No, no. È un podcast questo, devi descrivere le cose. Ho un'amica qui a Milano. Il suo amoroso di questa amica è uno sviluppatore di VR. Lui fa texture e quindi a casa sua ha tutte le console che usano VR, ha i vari Oculus, ha il PlayStation VR, eccetera, eccetera. E abbiamo giocato a Superhot che per le persone che conoscono VR mi ha spiegato lui è tipo un must perché è questo gioco dove praticamente tu inizi queste mini missioni dove ci sono delle persone che stanno cercando di ucciderti e tu devi prendere delle cose e sparargli o tirargliele addosso, eccetera, eccetera. E se stai fermo il tempo è fermo. Se ti muovi il tempo si muove. Ah, ok, adesso mi ricordo di che cosa stai parlando. È un puzzle game di sparare. È abbastanza. Sono stupido io o non nasceva come gioco in VR, giusto? Esatto, esatto. No, infatti no. Allora sì, ok. Solo che è diventato un po' una cosa che ha funzionato benissimo in VR ed è, boh, io vi assicuro è una cosa fighissima. Cioè, un'ora, due ore dopo ti trovi tipo coperto di sudore. Non riesci più tipo... E devi ancora aprire il gioco. Non avendo capelli. È solo che hai dei problemi e sudi moltissimo. È solo che fa caldissimo, il casco è caldissimo, è tipo 100 gradi e quindi ti brucia la testa. È veramente caldo. E nel visore vedi solo del fuoco. Che realtà aumentata. Comunque no, poi ho provato un po' di altre cose. Effettivamente sono... Cioè, ci sono dei giochi, secondo me, almeno parlando anche con questa persona, verranno fuori dei giochi che iniziano a sfruttare veramente la realtà virtuale, che funzionano veramente bene. Beh, è appena uscito Beat Saber, che... Io sto aspettando di poter andare da Studio Evil, i miei amichetti che stanno sviluppando il mio gioco. Battlefield! Compratelo. Che hanno un... Sai che eliminerò questo pezzo dopo, vero? Sì, lo so, però volevo provare a metterlo. Dai miei amichetti di Studio Evil, che hanno ovviamente tutti gli Oculus e i Vive, perché Beat Saber è un rhythm game con le spade laser. Ah, oh mio Dio, io ho visto un video di un tizio che tipo fa una cosa difficilissima su Beat Saber e non sapevo come si chiamasse il gioco, ora me l'hai appena detto, perfetto. E' difficilissimo, sembra super difficile. E' super divertente. E comunque, io anch'io ho provato una volta Super 8, il problema è che quando ti togli il visore e dopo un po' per un'oretta non capisci perché quando ti fermi il tempo attorno a te non si ferma, è stranissimo. E' bello specialmente se stai guidando. Starò fermo al semaforo per cento ore. Perché questi tutti mi suonano? Hanno annunciato anche Devil May Cry 5, tra l'altro. Ma davvero? Sì. Ma dai! Sì, la Capcom... Ma che figata! Devo dire che la Capcom a sto giro ha dato un sacco di piccole cose. E tra l'altro la cosa bella è che dal trailer di Devil May Cry... Voi ci avete giocato? Io non ho mai giocato a nessun Devil May Cry. Ok. Tutti, in realtà uno, due, tre. Non ho mai giocato a questo. Dal trailer non si capisce, ma sembra che il protagonista potrebbe essere Vergil e non Dante. Però c'è tipo Dante compare per due secondi alla fine del trailer e la sua faccia si presta a qualsiasi meme. Quindi c'è automaticamente 10 su 10 come gioco. C'è tipo compare un secondo, fa riderissimo e bom. Vado subito a vedere il trailer dopo il podcast, ovviamente. Wow. A parte questo, in realtà non ci sono stati rivelazioni o cose veramente grosse quest'anno. È stato un E3 tranquillo. A parte The Last of Us 2, che adesso è gay... Gay, questo podcast finisce ora! No, non sapevo che votassi il popolo della famiglia. Perché The Last of Us 2 è gay adesso? Ah boh, semplicemente perché Ellie ha un'amorosa e a quanto pare si baciano nel trailer. Oh no! Chi ha pensato ai bambini? Nessuno, evidentemente. Comunque Dragon Ball FighterZ esce su Switch e io lo compro. Volevo dirvelo. Dragon Ball FighterZ è sempre di Arc System, giusto? Sì, sì. L'ho provato su una PS4 ed è un gioco che sembra di giocare una puntata di Dragon Ball. È incredibile. Ah, quindi è figo! È talmente bello che, boh, faccio schifo ma lo voglio comprare lo stesso. Ma mi sembra corretto. Più che altro, scusa, voi avete mai giocato a Fortnite? No, odio Battle Royale di qualsiasi genere e sorta. Ok, Sio? No, io non l'ho mai giocato, ma siccome ieri l'hanno annunciato e hanno detto adesso esce su Switch subito, l'ho scaricato. E infatti stavo leggendo di questo. No, sì, l'ho scaricato stanotte, ma la prima cosa che ho fatto stamattina quando mi sono svegliato è stato venire qui a fare un podcast, quindi dopo lo provo. Essere in ritardo per il podcast perché giocavi a Fortnite, quella sarebbe stata la conclusione perfetta di questa frase. No, comunque è figo Fortnite in realtà. Sì, l'hai provato? Sì. Vuoi un attimo spiegare ai nostri ascoltatori cosa cavolo è Fortnite? Fortnite è un... com'è che l'hai chiamato? Un Battle Royale? Sì, è quello sulla falsa riga di Player Battleground Unknown of the... Players Unknown of the Battlegrounds. Yeah, esatto. Quello. E sì, fondamentalmente scegli personaggio, vieni lanciato da un aereo su un'isola e ci sono altri personaggi che si vogliono uccidere e ne deve rimanere soltanto uno. E man mano che trovi cose in giro puoi trovare armi, oggetti eccetera eccetera che ti aiutano nel sopravvivere e fare in modo che gli altri muoiano. Sembra divertente. Io ho iniziato a interessarmi di Fortnite, a parte dopo averlo provato perché comunque tipo sta ricevendo un sacco di hype, ma perché c'era una... a un certo punto i giocatori di Fortnite hanno... si sono resi conto che c'era una meteora in cielo. Una domanda velocissima. Tutte le partite di Fortnite quindi sono nella stessa mappa o da mappe diverse? Stessa identica mappa tutte le volte. È un'isola grossa però. Nel senso che devi viaggiartela parecchio per coprirla tutta. Ok scusa, la cosa della cometa alla fine? Sì la cometa. Sembrava che ci fosse tutta questa cosa organizzata per modificare la mappa di Fortnite. Ok ma alla fine erano solo congetture o... Era giustissimo come avevano letto la cosa. Grazie dell'aneddoto nicolabernardi.com Wow è stata la cosa più anticlimatica. Sì infatti mi aspettavo qualcosa. Ok state leggendo qualche altro videogioco? È uscito il trailer di Into the Spiderverse. Oddio quello deve essere bellissimo. Esatto che sto aspettando tantissimo sarà un film della Marvel ma di animazione e non so se ti è capitato di vedere il trailer. Ho visto il trailer la settimana scorsa è una cosa incredibile. Esatto e sono contentissimo di poterlo aspettare perché a prescindere dal contenuto che potrà essere una chiavica lo aspetto solo per l'aspetto visivo. Perché leggevo che appunto hanno utilizzato più metodi di animazione da delle line art quasi di animazione tradizionale a computer grafica e già solo dal trailer sembra una cosa incredibile da vedere. Ecco perché perché io non riuscivo a capire se fosse un film in 2D o in 3D ma è un mix a quanto pare. Anche io avevo dei dubbi a riguardo e si pare che utilizzino tecniche diverse. È uscito anche il trailer per How to Train Your Dragon 3 che tipo io l'ho guardato tardissimo e pensavo che non mi sarebbe mai interessato invece di scoprire che tipo è una saga che mi è piaciuta tantissimo. Sì ma infatti tutti dicono pronti a piangere. Aspetta ti è piaciuto il 2? E sono tutti e due bellissimi. Cos'è che dicevi sì? A me il 2 non mi è piaciuto molto. Cioè l'1 è un bel film fantastico che non mi aspettavo che fosse così bello. Non sono dei capolavori ma per essere io non un super fan dei film. Tra l'altro cos'è? Dreamworks? Sì esatto. Questo mi è piaciuto. Non ho detto è il miglior film ma mi erano piaciuti entrambi. A me è stato un po' sulle palle il fatto che il secondo film abbiano avuto un problema di registi che si sono mescolati e praticamente il film doveva essere che il nemico era la madre e invece a un certo punto il film diventa no ci riconciliamo e a un certo punto il nemico vero è questo mostro grosso. Devo dire che tipo io non sapevo questa cosa però guardando il film implica che ci sia un contrasto e un conflitto però in realtà non è che tipo te la presenta fino a un certo punto come il nemico e poi cambia le carte in tavola. Quindi non sapendo questa cosa non pesava assolutamente. No è vero. Secondo me invece la storia della madre era super sensata. Boh sarà perché io avevo letto un po' di... Infatti il cattivo è sempre stato anche dall'inizio l'altro tizio. Cioè nel senso l'altro tizio poi tipo prende un drago che è un drago cattivo e di conseguenza fa determinate cose o lo fa diventare cattivo se vuoi. Però era già all'inizio del film lui il cattivo, cioè l'antagonista, quello che cercavano. Poi si scopre che c'è anche l'altro tizio che poi era la madre. Un film di avventura per ragazze ma l'ho trovato tipo molto meno melenso di tante altre cose. Disney, di tante altre cose che avevo visto. Parliamo di Coco. No. Avete visto Coco? No non ho ancora visto Coco, sì scusami. Però penso che compenserai tu perché penso che tu l'avrai visto tipo 150 volte ormai quindi... Tre volte, due al cinema. Ok. Forse sono un po' fissato con la Pixar. Però è entrato improvvisamente nella mia top 3 dei film Pixar assolutamente perché è ai livelli di Toy Story 3 o Gli Incredibili o Monsters & Co perché fa riderissimo. Ah, Toy Story 3? Sì. Parli di quei personaggi di Kingdom Hearts 3. Esatto, quel film tratto da quel videogioco della Square Enix che ha tutti i personaggi. No vabbè, comunque volevo solo dire molto velocemente che Coco se non avete voglia di piangere non guardatelo perché fa piangerissimo durante e dopo e riguardandolo una seconda volta fa ancora più piangere. Anche se sai il twist e il titolo è la cosa più geniale che abbia mai incontrato. E graficamente fa paura perché la Pixar ogni volta alza ancora di più l'asticello. La mia domanda è posso guardarlo anche se non ho voglia di essere super triste? No. Di che film stiamo parlando? Coco! Oddio quanto è bello! Ma ne stiamo parlando da due minuti! Nick non è stupido, è che era caduta la sua connessione. Ah ok, ok. Ecco perché improvvisamente non mi stavo interrompendo. Infatti io ero nero disconnesso. Coco è bellissimo ed è eccezionale, lo devi assolutamente vedere. Anche solo dal punto di vista visivo è tipo una cannonata. E poi sì, c'è un po' di tristino in un certo punto. Però non tristino, uh che peso. È tristissimo! È tristissimo! Non è vero. Non è tristissimo e ha molto patos e molte motivi. Non è necessariamente triste. No, infatti io ho detto che si piange tantissimo. Certo. Però non è necessariamente triste. No, 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 però piangi dalla commozione. Ok. Eh, ma infatti sì, è proprio così. Ok. È incredibile come la Pixar sia riuscita a far vedere che anche i messicani hanno delle emozioni. È fantastico. Rimanendo in tema Disney, qualcuno ha visto Solo? No. Ok, allora questo pezzo lo taglio perché a quanto pare nessuno l'ha ancora visto. Problem solved. In compenso ho visto l'Isola dei Cani. Ah. Sì. E? Sì. Non mi è piaciuto particolarmente. Ah, ok. Grazie per averlo tirato in mezzo allora. Grazie Nick per aver avuto qualcosa da dire su questo film. Prego. È un piacere. Antonnaziana. Ah, qualcuno guardava Sense8? Io lo guardavo e non sono un fan, ma so che tu lo sei. Io l'ho mai visto, però tu mi hai detto centomila volte di guardarlo. E ti ignoro. Sì, come dovresti fare. Ignorami. Quindi hai visto e l'hai visto anche il finale, se io immagino. Sì, sì, certo, ovviamente. Ho visto il finale che, ricordiamo, Sense8 era stato cancellatissimo da Netflix perché ha detto oh, ragazzi, ci piace Sense8 ma non lo guarda nessuno e tutti i quindici nessuno che non lo guardavano dicevano su internet e allora Netflix ha detto ok, vi facciamo un finale, basta che state zitti. E il finale è semplicemente una chiusura molto veloce della serie con un sacco di fanservice sostanzialmente. E diciamo che non è niente di eccezionale, è semplicemente un... Potremmo dire lo Shaman King delle serie Netflix. No, 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 io odio Shaman King perché era bello e poi è diventato brutto, ma in realtà volevo solo dire che Sense8 chiude bene ma poteva non fare meglio, però evidentemente non potevano fare meglio perché è tutto fanservice. Non hanno fatto di meglio. Tra l'altro non ero a conoscenza delle motivazioni ma mi stupisce che la motivazione sia stata perché non lo guardava nessuno, perché voglio dire nel momento in cui hanno annunciato faremo una chiusa, tipo mi è esploso l'internet in faccia per mezza giornata, quindi ho detto wow, a quanto pare è molto amata e seguita. Ma non vuol dire che quello sia abbastanza per motivare... No, immagino di no. Una cosa. Cioè tutte le serie penso che vogliano arrivare ad essere molto mainstream e avere degli ascolti di un certo tipo. Anche se in realtà non era l'immagine mentale che avevo di Netflix, specialmente in questo periodo, perché una cosa che sta facendo è proprio provare anche con cose abbastanza... Pensavo proprio che fossero più pronti a rischiarsela con prodotti un pochino più di nicchia e quindi mi stupisce che la cosa sia... Non abbiamo fatto una serie che ha venduto 7 mila miliardi. In realtà Netflix sta un po' crescendo come network proprio perché ha iniziato finalmente a cancellare un po' di cose. Continua a mantenere un po' la sua anima di sperimentare e fare cose a caso perché hanno soldi infiniti e quindi ovviamente vogliono far uscire una serie alla settimana praticamente. È ovvio che provano tutte le cose. Fanno una serie per quelli a cui piacciono gli anime, una serie a cui piacciono i polizieschi, una per i furry. E sono anche riusciti a fare, e questo magari ne parliamo un'altra volta perché ho bisogno di più di due minuti, sono anche riusciti a fare una nuova serie di Star Trek che non è Star Trek. Però ne parliamo un'altra volta. Ok, anche perché sono molto interessato a Discovery, ne possiamo parlare nella prossima puntata facendo del follow up. Bene, quindi chiudiamo qui la puntata. Sì, diciamo che è stata una sorta di prova generale. Ci siamo parlati sopra abbastanza quindi sono felice. Io non sono affatto soddisfatto. Penso che per comodità semplicemente cancellerò una delle vostre due tracce per non dover separare ogni cosa. Beh, sicuramente cancella la parte in cui io mi sono disconnesso e ho iniziato a imprecare tantissimo senza sentire quello che stavate dicendo. No, in realtà sì, quella la cancellerò, ma devo dire che quel momento è stato fantastico perché c'era Sio che parlava e si sentiva solo Sio. È stato un bel momento. Mi dispiace di avervi regalato la voce di Sio in interrotta per più di due minuti. Dovrai fare ben più che scusarti, Nick. Mandaci un bonifico. E si tagliò la pancia con una bottiglia. Bottiglia di plastica. Era fortissimo, Nick. Vi ricordo che noi volevamo finire le puntate di Power Pizza consigliando delle cose brutte. Ok, il punto era che non dovevi dirlo. Dovevi solo consigliarlo. Ah, ok. Beh, lo sapranno solo le persone che hanno sentito la prima puntata, quindi, allora. Allora, consigliamo una delle cose più brutte che abbia... Voi cosa avete da consigliare? Io sto pensando un secondo, aprirò il mio Netflix. Io onestamente speravo che Sio avesse preparato qualcosa perché so che lui l'esperta nel campo. Di cose brutte, certo. Sì. Posso guardarmi la faccia. Però, sì, volevo consigliare Designated Survivor, una serie appassionante e iscritta bene. Non ho idea di cosa sia. Molto velocemente. C'è un cavillo nella Costituzione americana che praticamente dice che se c'è una seduta plenaria di tutte le persone del governo, contemporaneamente, devono prendere una persona a caso e metterla in un altro posto che se per caso ci fosse un attacco terroristico, almeno rimane un'ultima persona e quella persona diventa il presidente. Sostanzialmente esplode tutto, muoiono tutti e tipo il ministro delle infrastrutture della casa diventa improvvisamente presidente degli Stati Uniti. È una serie di fantascienza. Ok, aspetta, ma è giocata come cosa seria o è giocata tipo mezza... No, è serissima. È serissima, è questo il problema. Cosa? E dalla premessa pensavo che fosse una cafonata a caso. No, no, io infatti lo speravo anch'io. È quella la cosa bella di questa serie perché si prende super sul serio e ci sono tipo cento volte a puntata un accordo di organo su uno zoom di occhi che, ah o no, sta per succedere una cosa, musica triste e taglio. Beh, allora grazie per avermi consigliato Designator Survivor così potrò non guardarlo mai. Andiamo assolutamente tutti insieme a guardare Designator Survivor. Ragazzi, vi ringrazio per la vostra presenza. Bad Ignited Survivor. Vi ringrazio per il vostro ascolto e vi rimando alla prossima puntata di Power Pizza. Ah, quindi voi non avete una cosa brutta da consigliare? No, penso che una puntata sia più che sufficiente. No, ok, va bene. E se vuoi io consiglio i fumetti. Ah, burn. Ragazzi, buon proseguimento e alla prossima. Scusate, un'ultima cosa prima di lasciarvi. Ciao. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che ci possono seguire su Spreaker.com semplicemente cercando Power Pizza. Sito che ho inserito in post-produzione. Grazie. Ciao. Ciao. Alla prossima.